Musica Cari telespettatori bentornati a questo appuntamento del lunedì sera con Primo Cittadino questa puntata la dedichiamo al comune di Mondolfo insieme al suo sindaco Nicola Barbieri buonasera e bentornato Buonasera a voi e a tutti i telespettatori Sindaco sono già arrivati diversi messaggi ma ricordo come sempre il numero di telepettatori telefono 0721 86 14 33 se volete intervenire in diretta e parlare direttamente con il sindaco potete inviarci anche un messaggio con whatsapp al 338 49 68 250 partiamo dalle ultime notizie quelle dei giorni scorsi perché in una conferenza stampa avete presentato proprio i lavori di manutenzione delle scogliere quindi difesa della costa e lavori attesi da anni sindaco Sì un intervento devo dire senza precedenti quindi circa 2 milioni di euro con cui riusciremo a effettuare un intervento significativo nella zona centrale di Marotta che è la zona che da anni risente di più del fenomeno erosivo l'abbiamo visto anche nell'ultima mareggiata di quest'anno quindi di gennaio ad inizio anno e quindi riusciremo ad intervenire su un tratto di costa di circa 2 chilometri grazie a questo importante finanziamento che si divide in due stralci il primo stralcio di 360 mila euro verrà avviato nel 2000 sicuramente nel 2023 mentre il secondo stralcio di un milione e 600 mila euro invece verrà avviato a fine 2023 inizi 2024 cercheremo di anticipare il più possibile i tempi vista l'urgenza di questo intervento però è un intervento che i cittadini richiedevano da tempo e purtroppo la zona centrale del nostro lungomare è una zona in cui in alcuni punti la spiaggia è davvero poco profonda e quando ci sono le mareggiate il mare arriva anche sulla strada e quindi è un intervento che ci permette anche di continuare l'azione di tutela e valorizzazione dell'attività degli operatori turistici e balneari e di migliorare anche il nostro lungomare e riqualificare la città Un telespettatore chiede che cosa prevedete in modo specifico per la spiaggia di Marotta Sud lì pensa che possa fare riferimento a ripascimenti? Forse nella zona sud per quanto riguarda la difesa della costa abbiamo fatto un intervento qualche anno fa che ha funzionato e sta funzionando di potenziamento delle scogliere penso si riferisca alla riqualificazione del lungomare sud tra qualche settimana andremo in consiglio comunale con il bilancio di previsione abbiamo lì inserito e stiamo inserendo delle risorse proprio per il progetto di riqualificazione del lungomare sud quindi per avviare la gara, l'affidamento lavori e quindi l'avvio poi dei lavori che andrà però dopo questa estate 2023 però diciamo che in questi anni abbiamo riqualificato il lungomare di Marotta 100 e di Marotta Nord adesso dobbiamo intervenire sul lungomare sud con l'ufficio tecnico abbiamo studiato un progetto che va dal sottopasso Togliatti alle vele quindi di rifacimento del manto stradale una ciclabile di due metri e mezzo quindi più larga di quella attuale riusciamo a garantire abbiamo visto il doppio senso di marcia anche i posti auto e quindi ecco stiamo appunto procedendo con la progettazione per poi andare in bilancio e insomma finanziarlo in quest'anno 2023 questo è l'obiettivo dell'amministrazione Le chiedono se ci sono novità per l'arretramento della ferrovia abitiamo sulla statale e il rumore è diventato insostenibile ci sono novità? Mi ricordo che lei parlava di un progetto che potesse coinvolgere tutti i vari comuni Sì c'è un confronto costante sia con la regione Marche ma anche con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e noi l'abbiamo ribadito e continueremo a ribadirlo in tutte le sedi che l'arretramento della ferrovia deve comprendere anche Marotta l'abbiamo ribadito anche in occasione dell'assemblea pubblica che è stata organizzata dal Comune di Fano assieme al Comitato di Fano Sud sulla complanare che sono due infrastrutture importanti per il territorio la complanare da un lato e l'arretramento della ferrovia che non è pensabile che Tagli Fano Sud a metà ma che deve assolutamente proseguire coinvolgendo anche il resto del territorio e quindi anche Marotta e quindi ci sarà un confronto anche nei prossimi mesi se ne sta parlando a livello nazionale proprio sull'arretramento della linea adriatica Le chiedono anche che fine abbia fatto il progetto del ponte ciclopedonale sul Cesano Ma il ponte sul Cesano è stato finanziato la regione Marche ha anzi integrato ancora di più il finanziamento quindi incrementando le risorse a disposizione sono stati affidati i lavori del ponte e quindi c'è già la ditta che dovrà intervenire e avremo un confronto a breve con la regione Marche per il proseguo però nel 2023 ecco la regione ci ha comunicato che partiranno questi importanti lavori Ecco lei ha annunciato in linea generale un anno di grandi opere priorità a scuole e viabilità Da cosa partiamo sindaco? Sì partiamo dalle scuole perché questo è l'anno di completamento finalmente dei lavori di adeguamento sismico della scuola media fermi per un importo totale di circa 3 milioni di euro è stato un cantiere sofferto che ha superato anche il periodo Covid quindi di grande emergenza in cui anche le imprese sono insomma anche le opere pubbliche hanno trovato difficoltà però finalmente insomma i lavori sono a buon punto quindi la volontà dell'amministrazione comunale è quella di riconsegnare la scuola ai ragazzi di Mondolfo per settembre di quest'anno quindi con l'inizio della scuola poi nei prossimi mesi ci incontreremo con l'istituto comprensivo Fermi con la ditta quindi faremo un aggiornamento di mese in mese per arrivare pronti comunque quest'anno avremo appunto il completamento della scuola e finalmente ci sarà una scuola sicura e adeguata dal punto di vista sismico per i ragazzi di Mondolfo sempre sulle scuole abbiamo messo in campo delle risorse sì per quanto riguarda intanto le scuole scuole elementare campus e asilo campus faremo degli interventi quindi in questo anno rifaremo la pavimentazione di tutta la scuola elementare campus che necessita di intervento e faremo un intervento anche all'asilo campus qui un po' più piccolo sistemeremo le recinzioni ci saranno delle sistemazioni anche interne per quanto riguarda le infiltrazioni per quanto riguarda la pavimentazione sempre per quanto riguarda le scuole ho avuto un incontro con la dirigente dell'istituto comprensivo Fadi Bruno di Marotta ci saranno degli interventi importanti di nuovi arredi proprio all'interno quindi delle scuole in particolare si interverrà negli asili del territorio sia di Piano Marina che di Marotta Centro che di Marotta Nord e poi ecco quello che dicevi ossia il finanziamento che abbiamo ottenuto di 1.800.000 euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido nel nostro territorio quindi verrà realizzato dove è presente quello attuale il posto in sostituzione di quello attuale quindi l'asilo nido di Centocroci sarà una bella sfida per la nostra amministrazione dovremo rispettare i tempi dettati dal PNRR quindi entro l'anno dovremo avviare i lavori e concluderli tra fine 2025 e inizi 2026 almeno queste sono per ora le tempistiche la cosa importante è che avremo un asilo nido più grande e quindi dai 36 posti attuali si passerà a 60 posti quindi avremo la possibilità di dare alle famiglie un servizio più ampio e quindi anche questo è un altro intervento significativo che verrà realizzato nei prossimi anni ed è già finanziato Altra grande attesa c'è per la maxirotatoria a Marotta quindi ci spostiamo sul fronte della viabilità Sì, la rotatoria abbiamo avuto un incontro questa mattina con la ditta che eseguirà i lavori Anas e tutti i gestori dei sottoservizi e quindi nelle prossime settimane ci hanno comunicato che inizierà il cantiere si cercherà di garantire il più possibile la viabilità anche nella fase di esecuzione dei lavori questo è un intervento di cui si parlava da tanti anni e che finalmente vedrà la luce con la nostra amministrazione l'importo lavori di 475 mila euro finanziato da Anas quindi andremo a togliere i semafori e verrà realizzata questa infrastruttura di cui usufruiscono e usufruiranno tanti cittadini non solo del nostro comune ma anche tanti pendolari Proviamo a fare un botta e risposta Sindaco perché ci sono tantissimi messaggi e non credo di riuscire a leggerli tutti Buonasera, la strada in Via La Coppa è sei anni che è ancora così? Sì, in Via La Coppa lì c'è un intervento che deve realizzare ASET quindi coinvolgeremo nuovamente ASET visto l'intervento che ha realizzato della fognatura e anche dell'acquedotto lì c'erano stati dei problemi anche di una frana che erano stati anche ripristinati dalla stessa ASET però semmai ci confronteremo anche con loro se riescono a intervenire o altrimenti lo faremo come comune Il collegamento stradale fra Via della Luna e la rotatoria di Via del Sole verso il casello autostradale nascerà più? Allora, penso che si parli della strada a fianco alla nuova ciclabile che abbiamo realizzato Mondolfo Airfield Lì noi come comune abbiamo già acquisito le aree quindi abbiamo provveduto appunto agli espropri quindi quando prima ancora di realizzare la ciclabile abbiamo provveduto agli espropri non solo del percorso ciclopedonale ma anche della strada Poi come tutte le cose servono i progetti bisogna finanziarli in realtà lì ci sono dei lotti edificabili intorno al percorso e quindi quando si attiveranno questi lotti ci sarà la possibilità di richiedere la realizzazione di opere di urbanizzazione tra cui appunto la strada di collegamento Chiedono novità per il proseguimento del marciapiede sulla strada statale da Via Montemarino a Via Treppini Sì, questo ce l'avevano richiesto anche l'ultima volta abbiamo mandato all'ufficio tecnico di redigere il progetto serve il parere anche di ANAS e quindi al momento il progetto non è stato inviato ad ANAS quindi appena lo completeremo lo invieremo per i pareri e poi dovremo cercare risorse sia dal bilancio comunale oppure attraverso i bandi legati alla mobilità sostenibile quello è un obiettivo che comunque ci poniamo in questo mandato ancora abbiamo qualche anno di tempo La pavimentazione in Viale Carducci dicono da quasi 30 anni che non viene risistemata è così? Ma forse meno perché era stata inaugurata la piazza nuova con la pavimentazione nuova Viale Carducci è lungo quindi non so quale punto si riferisce comunque il cittadino però ogni anno interveniamo portando appunto sul Viale Carducci delle manutenzioni dove è necessario quindi semmai se ci sono alcune segnalazioni anche più precise magari riusciamo anche meglio a rispondere al cittadino Buonasera la strada imbrecciata che fiancheggia il cimitero si asfalta e quando poi l'aprirete definitivamente? Al momento non è prevista l'asfaltatura quindi l'apriamo solo in via provvisoria quando nel mese di novembre c'è un maggior afflusso al cimitero solitamente e la previsione visto gli ampliamenti del cimitero comunale che sono necessari anche nei prossimi anni la previsione magari di inserirlo tra le opere appunto che la ditta che esegui i lavori dovrà realizzare al momento però non è prevista l'asfaltatura Le chiedono invece formazioni per strada di mezzo che è da risistemare e poi a piano marina che avete rifatto il manto stradale ma due anni fa ci disse che avrebbe rifatto insomma questi lavori open fiber dopo l'intervento però così non è stato Di rifacimento del manto stradale? Esatto Sì abbiamo mandato Quindi strada di mezzo Allora per quanto riguarda la fibra abbiamo mandato una comunicazione anche una settimana fa open fiber per effettuare i dovuti ripristini perché sta accadendo in tutti i comuni che insomma la situazione critica quella che viene lasciata appunto da queste società che stanno realizzando la fibra ottica in tutto il territorio nazionale e l'altra invece per quanto riguarda strada di mezzo strada di mezzo è una strada che in buona parte è di proprietà del comune di Fano e un'altra buona parte di proprietà del comune di San Costanzo quindi bisognerebbe vedere qual è il tratto Che fine ha fatto il progetto di ricostruzione in Viale Carducci dell'area dove era l'ex albergo Holiday abbattuto ormai da alcuni anni Allora l'Holiday hanno la proprietà è venuta in comune anche qualche settimana fa esprimendo la volontà di voler avviare il cantiere che prevede una nuova struttura nel piano terra il commerciale nel primo piano l'albergo e negli altri piani il residenziale e quindi al momento abbiamo queste queste notizie da parte della proprietà e la speranza che si avvii il cantiere il prima possibile anche perché siamo in una zona centrale e non va bene lasciare un lotto così incustodito Ancora strade chiedono per via fermi 40 metri di strada sono devastati e poi strada di Monte Ciappellano non so se vogliamo annunciare se avete già stabilito il piano delle prossime asfaltature quelle che potrebbero essere le vie interessate perché ho paura che poi ognuno logicamente guardi alla via facciamo una lista infinita ci sono delle vie che necessitano di manutenzione via Largo Neviera e noi ne stiamo programmando diversi di interventi li abbiamo realizzati anche qualche mese fa su via Svevo via Gagarin abbiamo fatto diversi interventi via San Pasquale che è la strada vicino che porta al cimitero quindi ci sono diversi interventi che abbiamo già realizzato ed altri che sono in programma nel prossimo mese verrà asfaltata via allende le vie insomma che si trovano a Centocroci nei pressi della zona appunto produttiva industriale e poi compatibilmente con il bilancio di previsione cercheremo di mettere a bilancio ulteriori risorse ecco ci sono diversi interventi che programmiamo e dobbiamo purtroppo i soldi non ci sono per tutte le strade e quindi dobbiamo ogni anno programmare però questi interventi ad esempio penso prima ho parlato del lungomare sud il lungomare sud necessita assolutamente di una manutenzione straordinaria e quindi daremo la priorità a quella parte di lungomare dopo l'estate infatti qua poi parlano di via Piemonte a Marotta la strada che prosegue il borgo spedaletto si congiunge con la via per la Madonna delle Grotte che è rimasta l'unica non asfaltata un altro messaggio invece riguarda però quella è privata ecco quella è privata penso che si riferisca perché penso ritorno un attimo al messaggio sì ecco si riferisce a quella e le dicevo invece per il marciapiede sulla statale 16 via Litorania dove sono presenti attività commerciali e supermercati ecco questo sarebbe lo stesso da sistemare via Illica Marotta insomma siamo sempre sulle strade via Zanella però continuiamo a fare una lista infinita pista ciclabile va bene comunque stiamo programmando le persone i cittadini hanno visto che questa è un'amministrazione ecco che piano piano le cose le fa di quelle che insomma dando delle priorità naturalmente perché ecco non si può far tutto subito però le mettiamo in fila tutta pista ciclabile lì Teramanza e passa anche al progetto esecutivo quindi parliamo di mobilità sostenibile di una pista importante anche questo nuovo collegamento Centocruci San Gervasio sì questo è un percorso ciclopedonale richiesto dai cittadini del quartiere proprio perché per raggiungere il quartiere di Centocruci sia chi abita in via Beato Angelico ma anche chi abita a Ponterio non riesce a raggiungerlo in bicicletta a piedi perché lungo la Pergolese non c'è non c'è lo spazio per percorrerla in sicurezza e quindi abbiamo questo avremo questo percorso nel 2023 inizieremo i lavori quindi a breve verrà avviata la gara e poi si avvieranno i lavori e quindi è un percorso di circa 500 metri che appunto ci permette di mettere in sicurezza pedoni e ciclisti e anche di riqualificare il quartiere sono stati fatti diversi interventi negli scorsi anni abbiamo realizzato il percorso ciclopedonale che collega Centocruci a San Sebastiano ora realizziamo questo percorso ciclopedonale che collega appunto Centocruci a San Gervage la volontà dell'amministrazione è quella di realizzare diversi percorsi una rete di percorsi ciclabili pedonali su tutto il territorio comunale in modo tale da dare la possibilità alle persone di spostarsi a piedi in bicicletta in sicurezza quindi c'è una programmazione dietro c'è il Biciplan che è un progetto che abbiamo studiato qualche anno fa e quindi che è in grado di collegare tutta la città e quindi stiamo di anno in anno finanziando diversi tratti diversi appunto percorsi per continuare a collegare la nostra città giusto per precisare mi dicono che non è una strada privata quella a cui si riferiva prima il telespettatore o la telespettatrice è quella che congiunge si ricongiunge con la via per la Madonna delle Grotte e ci chiedono anche però la via va bene comunque adesso se mai ci confronteremo meglio sì perché una parte di strada è stata già asfaltata quella che dal centro storico va a Madonna delle Grotte però adesso se mai ci confrontiamo meglio anche con il cittadino abbiamo altri messaggi da leggere uno di questi è anche il gioco del pallone col bracciale so che è molto sentito a Marotta ci fermiamo per qualche istante e poi ritorniamo qua in diretta bene siamo di nuovo in diretta sindaco io partirei dalle indennità il 10% che vi siete ridotti ormai è cosa nota ogni anno destinate queste risorse risparmiate ad un progetto quest'anno sì allora l'anno scorso abbiamo utilizzato queste risorse per realizzare lo sgambatoio che inaugureremo a primavera lo sgambatoio che stiamo realizzando a Piano Marina e quindi la Dogaria che è un progetto che abbiamo seguito insieme alla nostra consigliera Elisa Franceschini con delega e quindi questo è un progetto a cui teniamo particolarmente che era stato richiesto dai cittadini negli anni e quindi riusciremo a dare questo servizio nei prossimi mesi mesi e invece quest'anno la riduzione delle indennità di sindaco e sessore le utilizzeremo per acquistare nuovi arredi quindi nei giardini pubblici continuare la riqualificazione abbiamo diversi giardini pubblici su tutto il territorio comunale e quindi riusciremo a installare nuovi giochi quindi nuove panchine e cestini quindi soprattutto li dedicheremo agli arredi e l'intento appunto della volontà dell'amministrazione comunale è quella di proseguire su questa strada anche in futuro perché comunque serve riqualificare gli spazi e quindi le aree gioco per i bambini e quindi interventi che vanno a favore delle nostre famiglie parliamo un attimo adesso dell'unificazione un argomento di cui se ne è discusso veramente tanto tempo perché da gennaio la farmacia appartiene al comune di Mondolfo c'è stato quest'ultimo passaggio definitivo sì la titolarità della farmacia che è passata al comune di Mondolfo abbiamo ancora la questione aperta in dopo il TAR c'è la possibilità da parte del comune di Fano di fare ricorso al consiglio di Stato e vedremo insomma in futuro e anche nelle prossime settimane e quindi speriamo insomma di terminare ecco queste questioni insomma legali e quindi per il bene di entrambi i territori ed è gestita sempre da ASE giusto? sì sì la farmacia continuerà ad essere gestita da ASE come previsto da contratto parliamo invece del palazzetto nuovo impianto di illuminazione sì è un intervento che abbiamo realizzato qualche qualche mese fa quindi che va nella direzione del risparmio energetico quindi era ormai un impianto obsoleto e quindi siamo intervenuti come amministrazione comunale in questa riqualificazione e nei prossimi mesi nei prossimi anni metteremo ancora più attenzione per quanto riguarda le strutture sportive del nostro territorio metteremo a bilancio diverse risorse in particolar modo interverremo sui campi sportivi sia di Marotta che di Mondolfo sui campi da calcio in particolar modo che necessitano di interventi quindi già nei prossimi settimani nei prossimi mesi partiranno i lavori per l'impianto di irrigazione al campo del Mondolfo faremo degli interventi li abbiamo fatti già qualche settimana fa ma li continueremo a fare anche nelle prossime settimane per quanto riguarda gli spoiatoi del Mondolfo calcio e poi per quanto riguarda invece il campo sportivo del Marotta abbiamo approvato un progetto esecutivo che prevede un nuovo manto del campo centrale in sintetico illuminazione a led nuove recinzioni quindi degli interventi che sono che sono necessari e quindi li metteremo nel bilancio di risorse che metteremo nel bilancio di previsione del 2023 è stata anche una struttura al coperto sì abbiamo avviato anche un concorso di idee per una struttura sportiva coperta vicino al bocciodromo comunale tra il palazzetto dello sport e il bocciodromo comunale quindi entro maggio quindi prima dell'estate avremo un progetto di fattibilità tecnico economica con la quale puoi poter partecipare anche ai bandi o eventualmente finanziare il progetto attraverso il bilancio del comune di Mondolfo comunque sarebbe un sogno per la nostra città avere un'altra struttura sportiva coperta per basket pallavolo calcio 5 ma per tutti gli sport insomma al coperto che si aggiunge appunto al palazzetto dello sport sarebbe un bel intervento via Romont giusto? si pronuncia così? Romont si dicono che pena di escrementi di cani che cosa si può fare sindaco? ma si possono fare più controlli qualche sanzione in più più controlli da parte della polizia locale magari lo segnaliamo agli agenti di polizia locale e cercheremo di fare maggiori controlli magari sulla via se ci sono queste criticità poi dipende anche dall'educazione delle persone sempre sono previsti invece interventi esterni come la verniciatura della scuola primaria a piano marina oltre al solito parco giochi che è trascurato? allora per quanto riguarda il parco giochi abbiamo fatto diversi interventi anzi i giochi li abbiamo cambiati tutti è rimasto soltanto un gioco che vogliamo siccome non era più a norma l'abbiamo dovuto togliere quindi vorremmo installare un nuovo castello per i bambini e quindi cercheremo di metterlo nel bilancio di quest'anno e poi alcuni interventi alla scuola sono stati già eseguiti e anche per problemi che c'erano anche nella tettoglia vedremo se ci usciremo con tutti gli interventi e i lavori che dovremo eseguire nelle scuole comunque ringrazio il cittadino per la segnalazione il gioco del pallone col bracciale come siamo messi sindaco si tornerà a giocare le chiedono ma allora intanto è ripartita l'attività dell'associazione quindi siamo molto contenti abbiamo insieme all'assessore con delega allo sport e alle tradizioni locali abbiamo diciamo supportato l'inizio della nuova attività da parte dell'associazione quindi ne approfitto per ringraziare tutti i volontari il presidente e tutto il direttivo perché è un gioco storico a cui teniamo particolarmente e devo dire che sono ripartiti anche con diversi giovani e quindi svolgeranno attività nel campo del tamburello che abbiamo vicino al campo sportivo di Viafermi e quindi cercheremo di supportarli in tutti i modi per farli ripartire alla grande e svolgere anche nello steristerio chiedono sindaco Mondolfo ma cercheremo sicuramente allora abbiamo in programma assieme all'associazione l'attività nelle scuole e quindi svolgeranno attività appunto nelle scuole e ci sarà l'esibizione nel piazzale Borroni molto probabilmente a maggio e quindi cercheremo di supportarli al meglio quindi con un lavoro di squadra possiamo riuscire in questo in questo obiettivo allora guardiamo insieme alla regia qualche altra foto illuminazione sì penso che si riferisca all'argomento di prima ecco questo è un intervento importante sì è un intervento che stiamo realizzando sul lungomare prima e poi ci sposteremo a monte per ridurre il rischio allagamenti nel quartiere di Marotta Nord questo è il nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche di via Chienti e via Corfu qui siamo sulla zona mare e ora quel tratto è stato ripristinato asfaltato quindi è tornata la normale viabilità sul lungomare e il cantiere sta procedendo su via Chienti e poi tra qualche mese ci sposteremo su a monte ecco questa immagine spiega bene l'intervento quindi andremo ad intervenire su via Corfu su via Martini ma anche su via Ferrari e via Betti e anche con questo canale di raccolta delle acque meteoriche attraverserà anche la ferrovia e la statale ed è un intervento davvero di fondamentale importanza quindi abbiamo investito come amministrazione comunale diverse risorse un milione e duecentomila euro dal ministero dell'interno perché abbiamo vinto un bando sul rischio idrogeologico e le restanti risorse per un importo totale di 3 milioni di euro quindi dal bilancio comunale quindi un milione e due più un milione e otto quindi sono risorse che ci permetteranno di migliorare sensibilmente la situazione consapevoli anche che oltre a questi interventi già programmati e finanziati ce ne dovranno essere di altri quindi dovremmo mettere in campo ulteriori progettazioni in altre zone del quartiere servirà tempo come abbiamo detto spesso in altre situazioni servirà tempo e anche pazienza soprattutto in questi momenti in cui la burocrazia sicuramente non aiuta però cercheremo come amministrazione comunale con grande determinazione di portare avanti l'intervento nella massima celerità ci saranno un po' di disagi per i cittadini del quartiere però sono consapevoli dell'importanza di questo nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche ho visto prima un'immagine invece sull'illuminazione a led questo intervento che abbiamo fatto a Mondolfo qualche mese fa tra via Fausto Coppi e diciamo lungo insomma la viale dell'artigianato e quindi un intervento di realizzazione della pubblica illuminazione quindi era un tratto che non era illuminato c'era anche una fermata autobus nelle vicinanze e quindi era necessaria insomma l'illuminazione e poi col tempo cercheremo di intervenire anche su altri tratti purtroppo abbiamo trovato una situazione in cui diverse strade del territorio comunale non erano sprovviste di illuminazione pubblica e quindi negli anni stiamo facendo diversi interventi sul lungomare sud su via cesanense su tanti altri tratti che insomma ne erano sprovviste sindaco continuo a chiedere informazioni su strade via rio maggiore anche via mengaccio magari quando definirete il piano asfaltature veniamo per farle un'intervista e con dei cartelli almeno riusciamo a dare anche l'elenco delle strade interessate via rio maggiore via mengaccio saranno le vie interessate dalla ciclovia del cesano quindi questo ci permette anche un attimo di parlare della ciclovia del cesano che è stata finanziata per 800 mila euro questo è il primo stralcio il primo finanziamento nel nostro territorio ci permetterà di realizzare un percorso ciclopedonale con sede propria lungo la via cesanense adesso chi chiede il posto magari conosce anche meglio le vie di cui sto parlando comunque un percorso ciclopedonale su strada su sede propria lungo la via cesanense quindi che permetterà di collegare il lungomare al quartiere di Molino Vecchio e poi il percorso ciclopedonale si inserirà insomma su via mengaccio e su via Rio Maggiore quindi sono delle vie insomma interessate da questo progetto della ciclovia del cesano poi serviranno insomma altri finanziamenti per proseguire Sindaco dopo due anni di stop sono andate bene le iniziative natalizie abbiamo anche qua qualche immagine penso a Presepe Paese penso ai Biruccini e poi adesso piano piano state cercando di entrare in questo 2023 con novità ad esempio gli itinerari della bellezza quindi puntate tanto anche sul turismo e sulle iniziative sugli eventi per i vostri cittadini mettiamo ogni anno diverse risorse a bilancio sia nel settore turismo che nel settore cultura cerchiamo di organizzare eventi ed iniziative durante tutto l'anno sia sul mare che nel nostro borgo questa ad esempio è la conferenza stampa del Natale che non ti aspetti con le proloco provinciali quindi le iniziative di Natale sono andate molto bene abbiamo avuto tanti visitatori anche al museo civico abbiamo avuto la mostra di Tonino Maurizzi mille volte Natale e sono venute tante persone e ci fa molto piacere prima ho visto una foto anche dei presepe paese che è un'iniziativa che organizza la parrocchia di Santa Giustina in collaborazione con le associazioni del territorio ventottesima edizione se non ricordo male quindi insomma tanti anni di tradizione un fiume un fiume di gente e quindi ci ha fatto davvero tanto piacere anche perché assieme alla proloco Tre Colli e tanti volontari abbiamo cercato di illuminare al meglio il nostro centro storico il palazzo comunale e quindi ecco sono state iniziative natalizie molto seguite ora ci organizziamo anche per l'estate quindi stiamo organizzando e programmando la prossima stagione estiva siamo entrati pensate di organizzare di nuovi eventi come lo stesso adesso diciamo che forse ce l'avamo fermati ecco a causa covid e cerchiamo di ripartire nel migliore dei modi con eventi iniziative anche l'anno scorso comunque ce ne sono state diverse ci tengo a precisare che l'anno scorso abbiamo raggiunto il record di presenze del comune di mondolfo e quindi sono sono venuti a trovarci tanti turisti e quindi anche questo è un dato molto importante e poi ci siamo adesso siamo entrati anche nell'itinerario della bellezza con confcommercio e quindi un modo in più per promuovere il nostro territorio saremo il 13 di questo mese alla Bitta Milano siamo alla regione Marche per promuovere la nostra provincia e quindi cerchiamo di fare del nostro meglio e le associazioni del territorio stanno già organizzando gli eventi della primavera abbiamo la spaghettata a Mondolfo a fine marzo poi avremo la mezza maratona Onfalos avremo i garagoi fine aprile quindi diverse iniziative la colle marathon che la mezza maratona partirà da Mondolfo quindi anche durante la primavera ci siamo anche in bassa stagione ci stavano chiedendo dove è possibile rivedere la puntata logicamente salvo imprevisti dovrebbe essere partita la diretta sulla nostra pagina facebook occhialanotizia.it domani mattina eventualmente verrà caricata su tutti i social dal sito alla pagina youtube a facebook eccetera quindi potete riascoltare le dichiarazioni del sindaco che speriamo di poter avere presso nei nostri studi grazie per essere stato con noi grazie a voi per questa opportunità grazie anche a Cristiana Guerra e Riccardo Sora in regia fondamentali lavorano sempre dietro le quinte e grazie anche a voi per averci seguito l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle 7 insieme a Massimo Foghetti grazie e buona serata a tutti grazie sindaco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti